Scusi? Bello, è super interattivo Quando esce il nuovo Samsung? Domani Domani? Ma nessuno mi ha avvisato Viene già uno in anticipo, giusto per provarlo Perché l'è molto famoso con Capitan Jeff Bello Sì, sì E ragazzi, come va? Io sono Ferenike E io sono Steph e che si chiama Roblo E siamo tornati su un Tycoon con il Google Factory Tycoon Ovvero il Tycoon di Google Ho visto diversi consolini che ci hanno consigliato L'ho provato un pochettino e sembra interessante Quindi oggi lo proviamo Allora, ti voglio far notare prima di tutto una cosa che appena sono entrato ho notato Io non so bene che cosa sia questa bestia Però credo di averla portata io dentro a questo Tycoon in qualche modo strano Ma ce l'ho pure io, la vedi? Vedi, perché? Perché ce l'abbiamo come oggetto Non li vedi? No, non lo vedo come oggetto Se premi uno ce l'hai come oggetto Da me no Ah, ecco, aspetta, aspetta Guarda, guarda quanti ce ne sono Perché a me è compreso un tavolo? Perché ce li sta tirando crocchi Ci tira tutti gli oggetti addosso Vedi? Allora, il tavolo è il più bello Troppo caos Seri? Siamo nella fabbrica di Google Quindi siamo dei dirigenti Troppo a serietà Importanti E bisogna lavorare in modo serio Iniziamo a prendere i dropper Guarda un attimino Qua c'è l'enuncer Che poi vi so cosa stiamo producendo? È il peluche, il simboletto di Android Ah, ok, ecco Non l'avevo notato Infatti dicevo Ma che accidenti è? Bellino, bellino, sì È molto carino E anche questi sono Tutti i simboletti delle app di Google Adesso non ricordo quali di preciso Ecco Google Drive Con chi pensi di avere che fare? Solo perché c'è scritto Ho studiato prima di entrare in questo take-un Io direi la verità non ne uso mezza di app di Google Quindi non la conosco Chi mi ha tirato? Una torta? Eh sì, tiro torte Ah, grazie per il mio compleanno Anche questa No Ma sono apparte un sacco di scritte Stiamo registrando che è ancora il tuo compleanno Però quando uscirà non è più il tuo compleanno Quindi niente torta per te, ok? Ma mi stanno apparendo un sacco di scritte È solo per i consolini Non vedo più nulla, aiutami Non mi interessa Possiamo prendere un sacco di roba di produzione Devo dire che per ora è veloce Non voglio cantar vittoria Ma per ora Sì, esatto, esatto È veloce Voglio far vedere l'effetto della torta Che stava monomiano prima Quindi aspetta Ne tiro una per terra Ci salgo sopra E guardate cosa succede Prova a tirarmi tu addosso una, va? L'hai calciata Io non ce l'ho la torta Non ce l'hai? Come faccio tirarla? Aspetta Tieni Prendila Ma se la prendo io non fa me No, prendila, prendila E tiramela, fidati Allora Te l'ho data come oggetto E come te la tiro? Ah, così Esatto E guardate Please donate Repost for free This is so epic C'è di tutto scritto È geniale Cos'è strana Effetti strani È una torta che non fa molto bene Diciamo tipo Un povero le visioni Non è consigliata da mangiare Sinceramente È meglio evitarla Dopo un po' Per fortuna scompaiono E ti torna alla normalità Alla normalità, giustamente Allora Ho visto che abbiamo 5500 Quindi compro Wow, ma stiamo facendo un sacco di soldi È bellissimo Certo, certo Finalmente un Tecun bello Google è ricco Quindi fa un sacco di soldi Mi sembra giusto Che vada così Esatto, questo ha un sacco di produzione Un sacco di cosettine Google Bellissimo Sì, allora Altri 2000 Stiamo andando velocissimi Prendo l'ultimo Enhancer Che ci aumenta sempre I soldi che facciamo Ok, perfetto A questo punto dovremmo poter iniziare A fare un po' di shopping Quindi scegli cosa vuoi Anche perché io voglio iniziare a vedere Il nostro Google Factory Tecun Cioè ancora non c'è nulla È solo la produzione Eh, lo so Allora Guarda Che cosa ci posso prendere Adesso è un posto di Google Oh, bello Bello Sì, 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 sì Ma guarda C'è proprio il logo Che brilla Bellissimo È un posto serio questo Allora voglio Il pavimento Dai, voglio vedere com'è il pavimento Ok, 200? Sì, 200 Non costano neanche troppo le cose E per fortuna Possiamo comprare un sacco di cose Secondo me Per fortuna Allora Ti compro Le luci Visto che ci passo sopra Che sono Che flutano nel cielo Che flutano per ora Giustamente perché non abbiamo il soffitto Pavimento Bello Poi Tappetino Ah beh, certo Questo è il percorso Guarda che belli questi Sofa and lamp Mi posso sedere? Oh sì, bello E vedi Qui ti guardi Tutta la tua produzione E vedi tutti i tuoi soldi Stai qui comodo E fai Oh ma che bello Quanti soldi Ti hanno appena dato un oggetto fantastico Provalo immediatamente Sì, infatti stanno andando a provarlo Voila Vuuu Addio 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 Brinichi Come va lì su? Bene C'è un po' di freschetto Sei com'è? Meno male che ho la mia sciarpa di Harry Potter Di Grifo Capito? Perché almeno non mi fa venire mal di gola Eh sì Meno male Giustamente Ci servono 15.000 Perché con 15.000 Ok Compri le fondamenta E praticamente ti compra tutto il posto In una sola volta Ed è bellissimo Ah sì? Quindi anche le mura E questo qua giusto? Sì Quindi le mura Bello 15.000 Confermi 15.000 15.000 Voglio iniziare a vedere Arrivo Stavo dicendo Voglio iniziare a vedere come sarà E subito Eh sì Dovremmo aumentare la produzione Credo che ci sia un altro tasto Per fare ancora un po' di produzione Ok Però per ora facciamo vedere un po' di cose Ma stiamo andando bellissimo Ecco qua Finalmente inizia a prendere forma Finalmente Gigantesco Guarda quanti tasti sono apparsi Cioè tantissimi E ora si fa su serio Oh ma bello Lo sto guardando bene da fuori È gigante Cioè lascia intuire che poi ci sarà Ovviamente un secondo piano Ovviamente tutto fatto con vetrate Capito? E forse anche un terzo Forse anche un terzo Non riesco a capire bene ma è probabile Non lo so Non sono andato troppo avanti Perché come sempre Mi piace giusto controllare Se va bene Dopodiché Lascio chiudo E mi lascio tutto così Lascio chiudo A sorpresa Allora Finiamo la produzione Decorazioni per i muri Ok Una fontana Uh bella questa Mi ci metto dentro Ho sempre sognato Entrare in un posto E mettermi dentro la fontana Non so perché Ma perché? Ma che cose sogni? Per disturbare Non è normale Aggiungi un'altra stradina Ah no vedi Un sacco di cose Allora arriviamo a fare davvero Tanti 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 soldi Eh ma costa tanti 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 soldi E beh però ne facciamo anche di più Quindi aspettiamo Ci prendiamo tutta questa produzione E dopodiché andiamo a bomba Con lo shopping pazzo Esatto Quello che voglio fare Hashtag shopping pazzo Abbiamo 120.000 Credo che sia ora di fare shopping Probabilmente ci basteranno Per finire tutto Sei pronta? Lo spero Sì Shopping pazzo Boom Bello vai Poi Boom Ok Poi boom Ah bella Boom 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 No vabbè Ma è bellissima come decorazione È fantastico È molto googlesca Sì molto smart Guardami Guardami seduta qua in questo puff Tranquillissima Mamma mia Guardami qua come mi gusto il mio caffè Che non ho però vabbè Come se ce l'avessi Sei proprio già abituata alla zona Sì 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 Allora poi Prendiamo la vetrata Di tutto l'inizio Certo Le piantine che stanno fuori E questi effettini qua Ah un sacco di Di decorazioni Tipo gli effettini sul muro Le piantine È molto curato nell'estetica Guarda questa cosa Cosa? Vai nella porta Ok Ma davvero C'è come se fosse vero Come nella realtà Esatto No bellissima Poi Allora Dovremmo avere altre piantine Ok Questo che non so minimamente cosa sia Non so neanche dove sia comparso La tv Questa qui in alto Sì vedi che è una tv Ah è una tv Sì è una tv Dove c'è tutte le code di google Giustamente Bellissimo La reception Guardami Posso anche lavorare qua Eh ma è bravissima Sì so fare tutto Guarda Scusi Bello è super interattivo Quando esce il nuovo samsung? Domani Domani? Ma nessuno mi ha avvisato Viene già uno in anticipo Giusto per provarlo Perché l'è molto famoso Con Capitan Jeff Bello Ci posso fare anche un video? Eccolo Eccolo Lasciami in pace Le ho fatto anche la scritta Nerf in testa È felice? No per niente Allora Altro tappetino Poi Sedia rossa Ok Sedia verde Sedia di tutti i colori Sedia bianca Sedia verde diversa Sedia blu Arancione Viola Nera Gialla E poi Oh bello questo Mi è apparso sui piedi È un ologramma di Google Vabbè Ma qui si vede che siamo proprio all'avanguardia Qua si fanno le riunioni segrete Cioè guarda Qui è l'avanguardia Con gli ologrammi Dei nuovi progetti Sicuramente È una figata incredibile Bellissimo Vieni a vedere qua dentro Che figata No vabbè ma facciamo l'arcobaleno di neon Qua Epico Tamarro ed epico Allo stesso tempo Esatto Come piace a me Come piace a me 78.000 da spendere Perché ne ho preso altri Abbiamo un altro muro per qua Perché la produzione deve essere segreta Si mette il signo Vedi The Chrome Factory Vediamo un po' cosa ci aspetta qua Oh mamma Un sacco di roba Vabbè Enorme C'è più roba del previsto Allora Sì enorme Belline Ok giustamente Poi Povimentino Vabbè Cosa è questa cosa? Sono tutte le decorazioni che ci sono negli studi Facci caso Sì ma gli alberi dentro lo studio? Negli studi di lusso Cioè ci sono queste cose Non hai mai visto Tipo foto Scusa Io qua non lo vedo Come funziona? Perché siamo poveri Google ovviamente è ricca Comunque in questo take one Una cosa particolarissima che c'è Che infatti ci stanno continuando a scrivere i consolini È che si può rubare Quindi tu puoi andare nel take one di un altro E prendere i suoi soldi Sì ho notato Ho notato che si possono rubare Proprio una cattiveria Non so perché hanno aggiunto questa cattiveria Anche perché non credo che puoi ammazzare nessuno Quindi è proprio cattiveria pura Però c'è questa possibilità Per rendere più frizzantino il giocare Capito? Magari ti servono soldi Vai a rubare dal vicino Va benissimo Ah ok per trasformarci Oh mamma mia Ok C'hai fatto Ma lei ma mi rimane il capello Sono bruttissimo A te i capelli A me i capelli Vabbè Non è proprio bellissimo No ma questo è fighissimo Questo è fighissimo però Questo sì che è figo Guardami 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 Con i capelli e gli occhiali faccio ancora più ridere Guardami C'è un problema nel tuo corpo Vedo dei capelli di troppo Vuole eliminare i suoi capelli? No sto bene così grazie Prema uno se vuole eliminare i capelli Uaaaaa Ti è disgraziato Ma chi mi fa volare? Non ti lo aspettavi No non me lo aspettavo Non me lo aspettavo sinceramente Cosa proviamo a prendere qua? Ci sono tipo sette facce Anche se col robot Questa 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 voglio Scusi? Guardami Io li ho visto col telefono Sono molto occupato Sono un agente Mi lascio in pace Oh mio dio Vedi? Oh è bellissimo Ecco perché ha lasciato buia la zona Perché poi ci andava lo scivolo No No vabbè No vabbè No vabbè Che bello Che bello Penso che mi crescerà il gioco Da un momento all'altro Non ci capisco più nulla Anche me sto scazzando troppissimo Ma non ci posso credere Lasciatemi qua per sempre Bellissimo Bellissimo Tè Questa è la cosa migliore di questo Tycoon Proprio non ho dubbi Sì Assolutamente Anche se ci sono palli in mezzo a tutto il Tycoon Non importa Perché ne abbassa la sera Non importa Non importa Guarda cosa mi ha regalato Crokey L'overboard Che bello Che bello Che bello Che bello Però per salire Scusate Permesso Non c'è nessuno nelle strisce No Sto cercando di salire Prego Non riesco a quittarlo È sempre difficile l'overboard È sempre difficile Aiuto Arrivo Scusa sono al telefono Non mi disturbare Di nuovo Sto parlando con Capitan Jeff Dice che vorrebbe fare un film È bruttissimo Un film Voleva fare Pirati dei Caraibi 5 Ok Come protagonista al posto di Jack Sparrow Ci sarà Capitan Jeff Ma sa recitare? Sto parlando al telefono con il regista Per vedere se lo vuole Dice che deve fare un provino Ah Ok Mi sa che sei un po' arrabbiato Questa è la faccia del regista in questo momento Direi proprio di sì Direi proprio di sì E questa è di Consolini mentre guardano questo video Esatto Che è quella che ho anche io Quindi capisco benissimo la sensazione Compriamoci un po' di Morph Perché questi mi sono sembrati Bellini Ok E poi il teleporter ci esce Dai Me lo stai chiedendo da un sacco di tempo E io te lo concedo Perché mi fa piacere Ok adesso dove mi porta? Di sotto? Ok perfetto Perfetto Vai su e giù Vedi senza dover prendere più le scale Così non ti stanchi Ma no ma solo a te Va su e giù Scusami Ah ok adesso funziona Ok 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 Quindi yeah Yeah Guardaci come siamo brutti I capelli mi rimangono sempre Anche a me I capelli Non rimangono Non vanno mai via Non vanno mai via È una cosa che non cambia mai Comunque abbiamo rifinito i soldi ragazzi Cioè Costa troppo E sono cose che abbiamo già visto Quindi secondo me Le cose belle del Tycoon Le abbiamo viste C'è giusto un'ultima cosa da fare Prima di fermarci Ovvero di nuovo scivolo Dato che adesso ci sono le palle Pronta? Sì assolutamente Andiamo 3 2 1 Andiamo Vai Oh mamma mia Mi aveva tutto a scattito Non capisco Anche a me Penso che mi stia per esplodere il PC Ti dico la verità Non so bene perché Ma anche se le palle danno problemi Grossissimi Allo computer Eh sì danno un sacco di problemi Comunque ragazzi Ci fermiamo così con questo Tycoon Speriamo che vi sia piaciuto È molto carino Diverse cose diverse Al solito Un'estetica davvero ben fatta Si vede che Chi l'ha creata Ci è rimasto dietro Ho parecchio tempo per farlo Quindi è stato davvero bellino A provarlo E niente Ci fermiamo così Beh ragazzi Non ci riesce così Se è giusto Sentici un like E se è la prima volta Che vedete il nostro video Potete considerare L'idea di iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao E alla prossima Ciao ciao